If there's something on your mind, thinking all the time, thinking all the time, baby Ciao a tutti ragazzi, bentornati, settembre, nuove idee, nuove avventure, dopo un'estate super florida e super fertile di tanto lavoro e tanta promozione, delle picche uscite poco prima dell'estate e i panni, ma soprattutto di tutta la promozione che c'è stata dopo Tra l'altro vi saluto io dalla pagina, dal video diary, dalla pagina appunto youtube, ma vi saluto anche Buddy Buddy saluta, Buddy? Sì, ecco, mi dice ciao anche lui Quindi, rientrata in Italia, dico in Italia perché nel frattempo dopo aver fatto il festival dei giochi di calcio di strada con i calciatori brutti, sei tappe, ve le ricordate? Ultimo cambio, come sentite? Ci stiamo riscaldando? Grazie a te, alla prossima Grazie, grazie a questo video Siamo emozionatissima stamattina perché è successa una cosa fenomenale Fenomenale, incredibile È uscita ieri con Hey Buddy, il mio ultimo EP che contiene 5-6 tracce, tutto è pop dance Finalmente è uscito e subito, immediatamente, ieri mattina, la sessantesima, sono passata a ventesettesima, venticinquesima e nona Su iTunes, sulla classifica top al mondo, giusto? Sì O Italia Mondo Mondo, mondo, mondo Dopo di te chi c'era? Ed Sheeran Capodorlando, Polignano a mare, Buddy se n'è andato, di tutto e di più, sempre per Fudilissimo Buddy Il festival show che ho fatto Caorle, Brescia, Mestre Adesso sono di nuovo qua a settembre e poi ovviamente nel mezzo c'è stata anche una mini vacanzina Il, ve lo mimo, no, non è l'India, no, non è il Tibet, il Giappone Sono qua a raccontarvi che cosa succederà in questo autunno State attenti eh, ci vediamo fra un po'